Quest'anno sì, in realtà c'è un'aggiunta, c'è una edizione invernale che vogliamo fare appunto del Remind Festival Ideale che abbiamo chiamato Winter Edition appunto e sarà una versione nuova, siamo felici di presentare questo nuovo format si tratta di una rassegna musicale che avrà tre appuntamenti e saranno tre appuntamenti domenicali la prima domenica di gennaio, quindi il primo appuntamento sarà il 7 gennaio, poi ci sarà il 4 febbraio e il 3 marzo sono tre appuntamenti in cui noi fondamentalmente vogliamo fare quello che facciamo sempre e cioè ricordare in primis le nostre due amiche appunto Federica e Serena a passare dei momenti insieme e poi ci avvarremo tra l'altro quest'anno della collaborazione di due realtà del nostro territorio due validissime collaborazioni che saranno appunto Giorgia Di Sabatino in arte cook de look e Luca divisi del cocktail bar di tappezzeria club perché questo? Perché abbiamo deciso anche qui di fare comunque un'attività piuttosto strutturata direi durante la serata infatti ci sarà un aperitivo a cura appunto di cook de look e tappezzeria club e poi alle 19 e poi a partire dalle 20 e 30 invece ci sarà il live di tre artisti quest'anno abbiamo chiamato appunto per questo nuovo format tre artisti di fama nazionale che appartengono a tre generi musicali differenti per cui daremo la possibilità a tutti di venirci a trovare sia per una sola data, per due o perché no per tutte e tre la quota partecipativa sarà di 25 euro che comprenderà appunto il food, il drink e il live e ovviamente parte del ricavato come sempre andrà destinato in beneficenza quest'anno come anche per l'edizione scorsa del Remind Festival Ideale il nostro beneficiario era casa madre Esther di Cerni di Pineto e quindi anche con questa attività insomma cercheremo di aiutare le attività di questa casa famiglia per la prima data saranno ospiti Angelo Trabbace e Alessandro Trabbace che sono due fratelli, Angelo presenterà il suo lavoro, il suo lavoro d'esordio che si chiama appunto Sbarco suonerà il pianoforte per noi perché lui è un compositore e tra l'altro tutti e due fratelli hanno collaborato con grandi artisti italiani appunto come per esempio Colapesce di Martino, Dente, Bruno Risas, Tommaso Paradiso e tanti altri quindi sarà questo un progetto molto bello, molto interessante in cui appunto Angelo suonerà il pianoforte e il fratello appunto sarà al violino poi avremo la seconda sera invece il cantautore Luca Carocci che sarà accompagnato musicalmente da Roberto Angelini tra l'altro entrambi hanno una carriera alle spalle molto importante Angelini ad esempio credo che tutti si ricorderanno appunto l'avranno visto sicuramente all'orchestra di Propaganda Live ad esempio e poi la terza sera invece sarà la volta di Finaz Finaz è il cofondatore e lo storico chitarrista della banda Bardot lui presenterà chiaramente qualche brano appunto della banda insieme anche al suo progetto Guitar Solo dove suonerà appunto la chitarra e sarà un tutt'uno sostanzialmente con la chitarra perché la farà suonare come se fosse in realtà una piccola grande orchestra tutto questo avverrà a casa Ruggeri quindi